Io voglio dirvi soltanto una cosa, qui non si tratta soltanto di soldi e di risparmi, qui si tratta di umanità. Era una domenica come questa, quando in 25 minuti il Consiglio dei Ministri si riunisce e fa un decreto che azzera i risparmi di decine di migliaia di italiani. 25 minuti per un atto di domenica senza alcuna pietà per i cittadini. Ricordiamocelo sempre questo dato perché oggi come ci hanno messo 25 minuti per azzerare i risparmi, noi chiediamo un decreto in 20 minuti per ridare i soldi a tutti i truffati e tutti quelli che li hanno persi. Qui deve finire questa storia per cui ci vogliono 25 minuti per salvare le banche e stiamo aspettando da anni l'abolizione della riforma Fornero. Ci vogliono 20 minuti per aiutare i petrolieri e invece impiegano anni solo per istituire uno strumento come il reddito di cittadinanza che serve a dare lavoro a milioni e milioni di italiani. E' questo quello che non torna in questa vicenda. Prima qualche giornalista diceva che ci vogliono 800 milioni di euro e io gli ho detto che stiamo parlando di un bilancio dello Stato di 800 miliardi di euro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle in tre anni tagliando il proprio stipendio hanno messo insieme 14 milioni di euro, lo stesso hanno fatto 100 consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Di cosa stiamo parlando? Solo l'aereo di Stato del Presidente del Consiglio costa 175 milioni di euro e se l'è appena comprato. Negli stessi giorni in cui azzeravano i risparmi di tanti cittadini italiani. Allora qui non è una questione di soldi, ve l'ho detto, è una questione di umanità. E il Movimento 5 Stelle oggi è in piazza come lo è da tanti anni. Noi non siamo quelli che appaiono il giorno prima delle elezioni e scompaiono il giorno dopo, anzi se è possibile ci siamo molto di più fuori dalle campagne elettorali perché si addicono poco ai temi, alle iniziative che portiamo avanti e voi lo sapete. Noi oggi siamo qui in piazza per fare da scudo a tutti i cittadini abbandonati dallo Stato con la S minuscola. Noi dobbiamo essere lo Stato con la S maiuscola che si oppone al loro modo di agire, che è un modo di agire che mette al centro delle politiche pubbliche gli interessi. Prima ne parlava Alessandro, hanno istituito il Beilin, ve l'ha spiegato Alessandro, Alessio Villarosa, Daniele Pesco. Significa che se fallisce una banca i soldi se li prendono da voi e quando l'hanno istituito mica ci hanno dato il tempo di valutare se togliere o meno i soldi dal conto corrente perché magari abbiamo capito che quella banca non si comportava bene. Allora noi chiediamo una cosa, dateci due anni per attuare il Beilin. Intanto noi come Movimento 5 Stelle chiediamo l'istituzione di una banca pubblica dove i cittadini possano mettere al sicuro i propri risparmi. Secondo, il controllore, dove erano Banca Italia e Consob quando tutto questo è accaduto? Se chi ci doveva controllare non ha controllato, la prima cosa che dovevano fare Padoan e Renzi per dimostrare la loro buona fede era chiedere le dimissioni dei vertici di quelli che dovevano controllare, invece gli hanno dato fiducia e questo dimostra la loro malafede. Alla fine chi è stato scaricato? È stato scaricato soltanto quello lì che non aveva nessuna copertura politica, quello che era stato truffato dalla banca è stato truffato dai cittadini. Ma qui voi in Daniele, in Alessio, in Alessandro, in tutti gli attivisti, ve lo dico per le banche ma vale per tutte le altre cose, potete trovare uno scudo. Io sono stato due giorni fa a Vittoria in Sicilia dove abbiamo comprato una casa pignorata dalle banche a una famiglia in cui il capofamiglia si era suicidato e l'abbiamo ridata ai figli e l'abbiamo fatta con i soldi degli stipendi dei nostri consiglieri regionali. Non ne parlano perché si rompe il paradigma, perché se qualcuno vi venisse a raccontare che con i soldi degli stipendi dei parlamentari sono nate mille imprese in Italia, con i soldi degli stipendi 130 parlamentari, cade il castello di carta su cui hanno costruito tutte le balle della politica italiana degli ultimi anni. Quante volte ve l'hanno detto non ci sono soldi, quante volte ve l'hanno detto non c'è un'alternativa a questo sistema bancario e invece non è così. E lo stesso vale per tutto il resto delle cose che riguardano le banche e le vostre famiglie. La prima casa deve essere impignorabile, ricordiamolo e lanciamo questa sfida al governo. I macchinari essenziali delle aziende devono essere impignorabili perché se un commerciante o un imprenditore ha un debito e lo deve restituire e tu gli pignori i macchinari essenziali come fa a restituirlo questo debito? Come fa? Equitalia deve sparire dalla faccia della terra, deve sparire dalla faccia della terra e per farlo abbiamo bisogno di una legge di poche righe, io ve lo assicuro, le abbiamo conosciute le leggi, abbiamo conosciuto questa entità astratta che ci dicono sempre di rispettare ma non ci dicono mai come si deve fare, sono tre righe, dal primo gennaio 2016 Equitalia è soppressa, dal primo gennaio 2016 la prima casa non può essere pignorata né dalle banche né da Equitalia, dal primo febbraio 2016 tutti i correntisti e tutti i risparmiatori che hanno perso i soldi nello scandalo Banca Etruria e altre banche riavranno i loro soldi tagliando gli stipendi a tutti i politici italiani, si può fare? Allora io vi chiedo una sola cosa, noi siamo venuti qui anche a fare un atto di coraggio e non noi perché questo è il nostro dovere ma voi, le persone presenti in questa piazza, in questa città Arezzo che è il centro nevralgico di una serie di interessi che probabilmente conosceremo nei prossimi anni man mano che scoppiano gli scandali, hanno avuto coraggio, soprattutto i cittadini di Arezzo che sono in questa piazza, hanno avuto coraggio di mettersi contro un sistema che probabilmente controlla dall'ASL alle cooperative, ai centri per l'impiego, all'ufficio che vi fa la carta d'identità, voi avete avuto coraggio a stare qui e dobbiamo contagiare tanti altri perché l'unico limite che non ci consentirà di vincere queste battaglie è la paura, io vi chiedo di abbandonare la paura verso questi signori perché questi signori sono molto più deboli di quello che crediamo perché ci avevano detto che controllavano tutto e invece un movimento senza lobbisti, senza rimborsi elettorali, senza aziende alle spalle, senza tv e senza giornali è arrivato ad essere la prima forza politica del 2013 e oggi è l'unica alternativa al partito di governo e mi rivolgo al governo, a Matteo Renzi, a Maria Elena Boschi, non siete venuti qui e questa è una vostra responsabilità ma riunite il Consiglio dei Ministri anche stasera come avete fatto quando avete salvato la banca riconducibile alla famiglia Boschi e ridate i soldi a centinaia, decine di migliaia di pensionati e risparmiatori che hanno avuto un'unica colpa, quella di fidarsi di loro, l'unica colpa di queste persone è stata quella di fidarsi di quella gente, allora dobbiamo diventare più diffidenti verso banchieri, verso il governo, verso anche coloro che sono controllati dai banchieri e dobbiamo avere più fiducia in queste piazze perché è dalle piazze che noi potremo far ripartire questo paese, io ci credo, andremo al governo di questo paese e faremo le leggi che servono. Grazie.